Buonasera Londra, un muscolo per farlo crescere lo devo spaccare? Ecco, questa è una vecchia credenza, figlia del bodybuilding d'OPED. Oggi si sa che il danno muscolare può aiutare la crescita muscolare, ma non è detto. Ci sono degli studi che fanno vedere che è l'ostacola. Insomma, non è il danno muscolare il fattore chiave dell'ipertrofia, ma nei natural si è visto che è la tensione meccanica. Che cos'è la tensione meccanica? La tensione meccanica è il semplice rapporto fra il carico interno del muscolo che lavora, quindi non il peso che sto sollevando esternamente, ma quanto si scarica sulla singola fibra che vado a ipertrofizzare, e il tempo sotto tensione. E per questo, per esempio, una serie dove mi riposo nel blocco articolare non può essere paragonata a una serie con le stesse ripetizioni dove lavoro in tensione continua. Carico interno per tempo sotto tensione è questo che genera nei natural la maggiore ipertrofia ed è questo il parametro su cui dobbiamo lavorare per migliorare.